Si svolgerà nel pomeriggio di sabato 27 alle ore 17.30 all'interno della Cattedrale Santa Maria Lanova di Caltanissetta la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Caltanissetta Monsignor Mario Russotto in occasione dell'undicesimo anniversario della sua consacrazione episcopale avvenuta il 27 settembre del 2003 per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Cardinale Salvatore De Giorgi. Sarà compito del Vicario Generale Monsignor Giuseppe La Placa all'inizio della Santa Messa esprimere al Vescovo Mario Russotto a nome dell'intera comunità diocesana presbitere e diaconi religiosi e religiose, anime consacrate, federi laici delle diverse comunità parrocchiali, le più sincere felicitazioni per l'anniversario della sua consacrazione episcopale ringraziandolo inoltre per il suo infaticabile servizio ministeriale a favore dell'intera diocesi nissena. Nel corso della celebrazione eucaristica il Vescovo Russotto ordinerà sacerdoti i diaconi Leandro Giugno, alunno del seminario vescovile di Caltanissetta appartenente alla parrocchia San Pio X ordinato diacono il primo dicembre dello scorso anno e Massimiliano Antonio Guarino della parrocchia di San Giovanni Evangelista di Campofranco. I novelli sacerdoti domenica 28 presideranno la loro prima messa presso le parrocchie di provenienza.